Innanzitutto il governo ha deciso di rilanciare il paese come abbiamo sentito oggi, è una misura questa nel piano di 15 altre manovre che sono state stabilite in Europa per considerare l'Africa come una potenziale occasione per far crescere l'economia anche in Italia e anche in Europa. Il paese africano è un paese molto grande dove ci sono grandi risorse energetiche e oggi sappiamo quanto difficoltà ci sia stata soprattutto dopo la guerra dell'Ucraina con la Russia, difficoltà dell'energia. Ci sono molte materie rare, preziose e materiali di vario tipo che quindi hanno messo in crisi durante il Covid, ci sono stati messi in crisi del sistema manufatturiero anche italiano ed europeo proprio per la mancanza di materie prime. E poi c'è un problema anche dell'immigrazione che sappiamo che noi riceviamo un'immigrazione che non sempre è stata gestita e che invece un piano guida stabilito dal governo su alcune tematiche che riguardano l'Africa nel suo complesso, quindi che riguarda l'energia, l'acqua, che riguarda l'ambiente manufatturiero, le costruzioni e molto altro potrebbe dare un impulso diverso e una strategia nuova al nostro paese e far crescere anche l'economia in questo senso. Ma secondo voi quali sono i liberi professionisti che potrebbero più trarre vantaggio da questi rapporti? Direi innanzitutto sicuramente le professioni tecniche che già peraltro operano a fianco di imprese che realizzano investimenti e infrastrutture in Africa, quindi c'è molto da fare in Africa. È chiaro che non bisogna guardare in immediato, bisogna guardare con investimenti a medio e lungo termine e quindi sicuramente la parte delle professioni tecniche, ma anche tutti gli altri colori quali le professioni amministrative, la formazione, abbiamo capito anche oggi parlando che c'è un problema demografico che colpisce il nostro paese e anche l'Europa nel suo complesso, in Africa invece la popolazione soprattutto giovane continua a crescere e noi abbiamo bisogno di mano d'opera perché qui in Italia scasseggia in tutte e quante le aziende e quindi però è chiaro che non possiamo portare dentro una mano d'opera che non la conosce l'italiano, che non è formata, quindi potrebbe essere che i professionisti aiutano con le loro competenze professionali in tutti i campi a dare la formazione sufficiente perché poi quando arrivano in Italia siano già formati e possono aiutare il sistema paese a continuare a crescere. Andando avanti rispetto al piano Mattei, qual è una richiesta che voi fate alla politica per i liberi professionisti? Una maggiore attenzione al mondo professionale perché abbiamo visto che noi siamo il paese in Europa che ha più professionisti e i professionisti hanno contribuito a far crescere l'economia in Italia sono stati un po' bistrattati dalla politica negli ultimi anni dove sono mancate le misure a sostegno della loro attività anche adesso che c'è la digitalizzazione, che ci sono la transizione green, ci sono tante opportunità che derivano anche dall'intelligenza artificiale, bisogna che ci siano degli interventi che tendano a aiutare i professionisti a crescere attraverso anche non soltanto gli investimenti, quindi io mi riferisco ai crediti di imposta ma anche attraverso la creazione di società multidisciplinari, società di capitali che ancora oggi manca lo strumento attuativo che invece sarebbe importante per poter competere con soggetti che provengono da altri paesi che vengono a fare acquisti in Italia, diciamo così. Grazie. Presidente Stella, come accoglie la proposta del Ministro Tajani su un maggior coinvolgimento e una collaborazione diretta tra Ministero, ambasciate e liberi professionisti? Sicuramente è un buon punto di partenza. Noi abbiamo fatto già delle missioni nei Balcani dove abbiamo incontrato anche gli ambasciatori nei Balcani e le Camere di Commercio all'estero che sono dei punti di presidi importanti e quindi il fatto di poter dialogare direttamente con il Ministero degli Esteri che ci può indicare quali sono le strategie del Ministero nei confronti dei paesi esteri ma rifavorendo, si parlava oggi della Serbia, ma anche di altri paesi che vorranno entrare in Europa secondo me è la strategia giusta, quindi possiamo collaborare in questa direzione.